Come è il risultato di un impegno di un anno e mezzo? Per lo meno dalla prospettiva della crisi economica di cui si parla tanto negli ultimi anni. Quindi come i nostri ospiti che già hanno delle difficoltà per una serie di disagi e motivi loro personali vivono il momento difficile della crisi economica e quindi che cosa questo comporta per loro? Ovviamente sono le loro storie di vita quindi rivisitate in qualche modo, sceneggiate dal nostro regista. Grazie a tutti.